Sessore, sono iniziati oggi i lavori alla Galleria Rittorio Emanuele, di cosa si tratta, che tipo di interventi e quanto ci vorrà per riconsegnare al suo splendore alla città, la Galleria? Sì, sono iniziati oggi materialmente, la consegna era stata fatta due giorni fa, sono degli interventi della durata prevista di 100 giorni che prevedono la sistemazione con anche sostituzione dei vetri rotti nella copertura e sistemazione anche delle canalette d'acqua, insomma per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua che sono presenti all'interno della Galleria, poi ci sarà la sistemazione dell'illuminazione e infine sarà fatta la sistemazione della pavimentazione con ricollocazione delle tessere che in questi anni purtroppo sono state asportate dagli avventori, insomma o anche per il fatto che venivano tirati gli arredi un po' di qua un po' di là, ma erano state conservate e quindi verranno ricollocate. Finita questa fase, contemporaneamente stiamo già partendo, l'assessore Caminiti sta già partendo con la gara per la collocazione delle vetrate, quindi poi la galleria verrà completamente chiusa e sarà un vero gioiello, un vero salotto del centro storico. Per ultima parte poi saranno forniti gli arredi e tutta la sistemazione dell'occupazione del suolo pubblico all'esterno degli esercizi commerciali in maniera tale che ci sia uniformità e anche l'eleganza necessaria a un luogo che è il salotto del centro storico. Mi ho detto un centinaio di giorni, si arriva proprio nel periodo di Natale se tutto va bene, quanto è importante restituire alla città una parte così bella anche in chiave turistica? È molto importante e sono sicura che la riqualificazione consentirà anche di sviluppare un interesse da parte degli imprenditori a investire all'interno della galleria, a riqualificarla, a occupare anche quelle luci che ancora sono chiuse e quindi che potranno essere occasioni per fare un bel bar, un bel ritrovo, oltre a quelli che già esistono per carità, ma alcuni hanno chiuso con questa crisi, altri sembrano essere aperti ma di fatto io li vedo chiusi da un po' di tempo, quindi mi auguro che questo consenta la ripresa anche delle attività e anche lo sviluppo di ulteriori attività ed è un luogo bellissimo, non ha nulla da invidiare né alla galleria che hanno a Napoli né a quella che hanno a Milano, ce lo diciamo sempre, però con una differenza, quelle sono curate, mantenute sempre in splendida forma, questa è stata abbandonata per tanti anni, noi è un po' che abbiamo investito su questo progetto, abbiamo incominciato con un'attività anche di disciplina delle aree pubbliche e adesso finalmente passiamo alla parte strutturale. Serve anche un appello ai cittadini per questioni di civiltà a mantenerla anche bene appena finiranno i lavori. Certo, quello sempre però, visto che la fiducia è sempre un'ottima arma ma il controllo ha altrettanto, ovviamente ci sarà un sistema di telecamere, c'è già all'interno della galleria ma sarà ulteriormente sviluppato e implementato e quindi sarà un'area assolutamente da questo punto moderna, sarà fornita anche di wifi quindi sarà a maggior ragione un vero e proprio salotto moderno e che ci auguriamo che i messinesi possano nuovamente riscoprire e valorizzare come merita.